aggiungiamo ora ad audacity l'effetto riverbero quindi andiamo, ho selezionato la seconda traccia vado in effetti e vado in riverbero mi dà una serie di parametri su cui posso agire posso modificarli o cambiarli il riverbero comunque non aggiunge ecchi serve per esaltare il suono e rende la voce più naturale il tempo del riverbero ha ripercussioni sulla durata del riverbero quindi andrò a vedere nei settaggi se questi incontrano l'effetto che voglio poi produrre con il riverbero si replicano i suoni in modo profondo simulando sia spazi aperti che chiusi allora ti dà la dimensione della stanza potrei lasciare questo parametro 75 oppure tanto per cambiare lo aumentiamo magari a 100 poi il pre-ritardo lo lasciamo 10 il riverbero va bene 50 50 anche lo smorzamento 100 il tono basso meno 1 lasciamo meno 1 il guadagno wet e il guadagno dry la larghezza dello stereo va bene può andare bene 100 vediamo l'anteprima per me si va nella città dolente per me si va vedete che l'effetto è ottimo quindi ho applicato questo riverbero e questo mi permette di creare un'atmosfera davvero molto interessante e questo mi permette di creare un'atmosfera davvero molto interessante grazie a tutti